Il pallone infiammato, la mano, mettersi la scarpa, direi che non è proprio il caso, quindi, o scarso o facciamo. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS a cura di QTSS a cura di QTSS più semplice di così non mi viene in mente e adesso le mettiamo alla prova in discesa via vera lo che passa non puoi neanche ammazzarmi 3 giorni prima della Vareso a cura di QTSS a cura di QTSS via ragazzi eccomi qua con mia figlia Giulia saluta ciao credo che manderò un'email a Havaianas chiedendo se possono fare un modello da trail running ciao 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 ciao